Ciao ragazzi, sono Riccardo di Ultimate Success Formula, la formula definitiva per il successo e sono specializzato nel creare strategie e metodi per generare entrate passive, automatiche e ricorrenti. Allora ragazzi, bentornati. Mi avete fatto un sacco di domande legate a uno degli strumenti della finanza decentralizzata che è PancakeSwap, ok, o PancakeSwap, come volete chiamarlo. È uno strumento veramente, veramente interessante, si possono fare parecchi soldini e ho già fatto dei video, quindi se questo è il primo video che guardi, ti consiglio di andare a vedere quelli precedenti dove do una panoramica più completa su questo strumento molto, molto, molto interessante. All'interno di questo video andiamo ad analizzare una nuova funzionalità che è stata introdotta proprio in questi giorni che può essere molto utile nel fare delle proiezioni di guadagno a breve, medio e lungo termine. Quindi, fondamentalmente, noi cos'è che abbiamo? Ripeto, non andrò a spiegare tutte le varie parti, tutti i vari aspetti di questo strumento perché, come dicevo poco fa, l'abbiamo già trattato nei video precedenti, però fondamentalmente qui a sinistra noi abbiamo vari aspetti che possiamo andare ad approfondire dove possiamo fare delle cosette interessanti. Allora, vediamo che il token di proprietà di PancakeSwap in questo momento è pari a 19 dollari, è salito, quindi sta tornando a dei livelli interessanti rispetto ai video precedenti che ho fatto, quindi rispetto agli ultimi video noterete un prezzo del token che è salito e quello che è stato introdotto, se noi andiamo su Pulse, abbiamo la possibilità fondamentalmente di mettere in stake, di bloccare o i cake, quindi questi token qui, e guadagnare sempre cake oppure possiamo mettere in stake, cake e guadagnare altri token, ok? Quindi fondamentalmente, se noi andiamo ad aprire i dettagli di ogni singola pool, abbiamo la possibilità di calcolare, ok, il guadagno, chiaramente ipotetico, che ci vanno a dare queste percentuali. Quindi se voi andate a vedere le percentuali di ritorno, ok, annue, sono molto interessanti e APR non considera l'interesse composto, ok? Quindi se noi ad esempio andiamo sulla prima che fa il compounding, quindi una volta raggiunto una determinata cifra in automatico reinveste la somma, se noi andiamo a vedere su dettagli e poi clicchiamo su questa calcolatrice, possiamo fare delle simulazioni, ok? Quindi ipotizziamo che noi mettiamo in stake, quindi blocchiamo 1000 dollari, quindi qua mettiamo 1000 e lui ci dice che in un anno, ok, andiamo ad avere praticamente 945.78 dollari, ok, più chiaramente i 1000 che abbiamo messo, oggi, ok? Questo ovviamente è pari al 94.58% perché questa prima pool va a fare l'interesse composto, quindi prende il profitto e lo reinveste in automatico, quindi secondo me è la migliore nel momento stesso in cui crediamo in questo token, in questo progetto. Ovviamente questo non tiene conto di quello che è il valore di Cake, ok? Perché se Cake da qui ad un anno triplica il suo valore, noi abbiamo i 1000 iniziali, ok, che sono diventati 3000, ok? Più abbiamo 945.78 che anche questo si va a triplicare, quindi noi abbiamo 945.78 per 3, ok, più 3000, quindi noi abbiamo messo 1000 e tra un anno ci troviamo 5837,34, ok? Chiaramente se questi 1000 li vogliamo tenere per 5 anni, ok, andremo ad avere oltre ai 1000 iniziali 27736,17 e avremo nello specifico 1456.395 Cake, ok, che sono appunto i token che sono stati creati appunto da PancakeSwap. Chiaramente anche qua se facciamo un calcolo, ok, su quelle che potrebbero essere le previsioni su questo token, che non dimentichiamoci è uno dei token principali e PancakeSwap è lo strumento principale per operare in finanza decentralizzata, cioè non avere la possibilità di fare delle operazioni senza avere degli intermediari. Cioè ci sono delle previsioni che Cake potrebbe addirittura andare a 200 di valore, ok, 250? Quindi voi provate a pensare tra 5 anni avere 1456 Cake per un valore di 200, ok? Si tratta di avere 291.200, ma ne avete investiti 1000, ok? Quindi quello che dico sempre, io chiaramente non vi sto dando consigli finanziari, non vi sto dicendo di investire, chiaramente devo fare di disclaimer, devo parlare in maiuscolo, ok? Per essere compliant, quindi chiaramente fate le vostre ricerche e quant'altro. Gli studenti privati invece potranno analizzare questi aspetti in consulenza, ma vi voglio aprire gli occhi, ok, sulle possibilità di questo mondo di cui in Italia, ripeto nuovamente, nessuno ci capisce un cazzo, è un mondo inesplorato dove ci sono un sacco di possibilità, chiaramente ci sono anche dei rischi, ma il rapporto rischio-beneficio è totalmente sbilanciato verso il beneficio, cioè noi mettiamo sul piatto 1000 dollari con la possibilità di farne 291.200, cioè quale operazione finanziaria o parafinanziaria in 5 anni con 1000 ti fa fare 291.200, ok? Chiaramente non è detto che siano questi, potrebbero essere la metà, ok? Però capisci bene che anche nel caso peggiore, dove tu ti trovi 1456 cake, ok, e dovessero avere il prezzo alla metà di adesso, ok, quindi per 9.5 ti troveresti 13.832, cioè tu in 5 anni avresti fatto un 1300% sul tuo capitale, ok? Ora, se sei neofita e quindi questi calcoli ti stanno facendo venire il mal di testa, ti consiglio di andare su www.pepitedigitali.com, è il percorso di riferimento in Italia e in Europa per quanto riguarda la finanza decentralizzata, lì è la possibilità o di acquistare il percorso e quindi di studiare direttamente da me e capire quelle che sono chiaramente le strategie, i metodi per guadagnare con le pepite e con la finanza decentralizzata che è un trend pazzesco oggi e negli anni a venire, oppure da lì è la possibilità anche di scaricare il mini percorso gratuito per poter vedere alcuni esempi di alcune possibilità che ci sono nella finanza decentralizzata. Quindi fondamentalmente per ogni singola pool, ok, tu hai la possibilità cliccando nella calcolatrice ok, di vedere e di fare una previsione. Nel caso che non sia il primo, dove il compounding, dove l'investimento è fatto in automatico, ok, devi tu mettere ogni quanto fai interesse composto, cioè ogni quanto tu fondamentalmente prelevi il profitto e lo reinvesti. quindi ipotizzando di tenere sempre 5 anni, ok, qui andresti a fare 36.989,72 facendo il compounding giornaliero. Facendo il compounding ogni 30 giorni, quindi una volta al mese, come vedi si guadagna di meno. chiaramente questo valore cresce, la disproporzione ovviamente nel caso in cui la cifra sia più grande, ok, perché chiaramente facendo più volte l'interesse composto hai più vantaggio. Quindi con 10.000 dollari in 5 anni, facendo il composto ogni giorno avresti 360.000 e qualcosa dollari, ogni 30 giorni ne perderesti per strada praticamente 30.000 e passa, ok? Quindi ti consiglio, anche solo per curiosità, di andare su pancakeswap.finance, andare sulle pool, che è il sistema più semplice per capire, e giocare un po' con queste calcolatrici, per capire effettivamente quello che si può andare a realizzare. Dopodiché ti rimando su pepitedigitali.com www.pepitedigitali.com per andare a vedere, appunto, come trovare il nuovo oro senza investimenti iniziali, senza fatica, per guadagnare in modo passivo, automatico e ricorrente. Ok? Qua spieghiamo cosa sono le pepite, che è un nome di fantasia, e qui la possibilità, se non l'hai fatto, di guardare il mini percorso gratuito, che ti dà una panoramica generale. Poi invece qua spieghiamo, ok, tutte le caratteristiche del percorso completo. Hai anche la possibilità, chiaramente, di contattare o su WhatsApp o su Telegram un nostro consulente. E quindi, ecco, ti volevo dire questo. E per quanto riguarda pancakeswap, molto, molto interessante questo aspetto da calcolatrice, e quindi, secondo me, è bello essere curiosi e fare delle simulazioni. Ok? Buona giornata, ci vediamo nel prossimo video.